Da sola? Ah, che sei una donna reale, cioè questa è la tortura più grande delle donne, quindi dopo tre ore io non ce la faccio più, quindi appena posso... Vanessa è incontrada ai Tacchi, una guerra che continua fuori onda anche durante le interviste dove lei arriva scalza, tormentata da quei 15 centimetri, proprio come una sua conterranea, a Penelope Cruz, chi appena può scalcia via i Tacchi, tofono? E senti cosa dicono di te quando scendono? Lo farò, guarda che lo faccio. Tutto gratis, cioè era mangiare cibo, al giorno dopo la proiezione scrisse una cosa che per me fu la cosa più meravigliosa che mi potevo portare.